Allora, Alberto Contador, intanto un piacere rivederti. Alberto, secondo te come finirà questo giro? A Verona. Solo può parlare di questo, perché a questo punto sta aperto. Sta a Hille e Carapace allo stesso tempo, tre secondi e niente in una crono. Ma anche Michelanda tiene avanti due opportunità per tentare prendere la vittoria al giro. Ci vorrebbe il miglior Contador in maglia rossa per staccarli? Non lo so se sia sufficiente o no. Io penso che la questione è di fare una bella tattica. Landa tiene una squadra potente, ha preso vittoria, può stare più relajata e dare il 100% per Landa. Io credo che è perfetto per lui. Ti chiedo un'ultima cosa, in chiave abruzzese un tuo giudizio su Giulio Sciccone. Come? Giulio Sciccone, cosa pensi di Giulio? Perché è un corridore che anche tiene due belle opportunità avanti per prendere la vittoria. La prima di tutto penso è meglio che la del sabato e domani. Come è Giulio?